Dal maestro dell'animazione Ayao Miyazaki Premio Oscar per la città incantata È una stregoneria molto antica E peraltro assai potente Venite a scoprire L'incredibile storia di una ragazza Trasformata da una misteriosa maledizione Ma sarei davvero io? Di un castello errante incantato Questa qui è una casa magica, vero? E di un giovane affascinante mago Tanto potente Da poterla liberare Finalmente ho trovato una persona Che sento di dover proteggere Lucky Red è orgogliosa di presentare Il nuovo capolavoro di Ayao Miyazaki Leone d'oro alla carriera Al Festival di Venezia Dal 9 settembre Partite per un nuovo fantastico viaggio Aspettatemi nel futuro! A bordo del castello errante di Aul Partite per un nuovo capolavoro di Aul